Mister, che settimana è stata? È stata la prima settimana dopo una sconfitta, ma non è stata differente dagli altri. I ragazzi hanno lavorato bene lo stesso, con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia. Per quanto riguarda l'elenco dei giocatori convocati disponibili, ci sono novità rispetto all'ultima settimana? No, non credo. A meno ad oggi dovrebbe essere lo stesso organico della settimana precedente. Sul fronte avversario, l'Arezzo torna a Città di Castello. Che tipo di avversario si aspetta? In campionato ha fermato il Livorno, un avversario che al momento vive un periodo di entusiasmo. Una squadra forte, una squadra forte. Ha vinto il Livorno non a caso, con ottimi giocatori, inutili stia qui a elencarli. È una squadra forte, è un banco di prova per noi molto importante. Per quanto riguarda i tifosi, si va oltre le 500 presenze. Lei ha sempre detto l'importanza del tifo, a maggior ragione forse una partita come questa. Ma senza dubbio. Vanno ringraziati per l'ennesima volta. 500 fuori casa sono numeri non usuali in queste categorie. Sono una cosa, credo, straordinaria.